La salute è complicata, è complessa. Noi crediamo in una salute pneumopsicosomatica, ossia che tutto è collegato, dunque qualsiasi cosa ha a che fare con la salute. E la salute non ha a che fare esclusivamente con il corpo appunto, ma ha a che fare con lo spirito, ha a che fare con l'anima, ha a che fare con le emozioni. E un tema che io ritengo sia molto prossimo al tema della salute è appunto quello della riconciliazione e del perdono. E con noi oggi abbiamo Francesca Bartellini che ha una storia da raccontarci, quindi questa intervista sarà molto anomala, se vogliamo dire così, perché io lancerò una serie di titoli e poi Francesca li svilupperà secondo quella che è la sua sensibilità. Francesca, innanzitutto bentrovata e benvenuta in mezzo a noi. Grazie. Io ho pensato di annotarmi alcuni titoli che mi derivano dalla esperienza legata alla lettura e alla visione di alcune tue interviste e soprattutto di un tuo lavoro molto interessante, un documentario dal titolo Ubuntu, che sembra una parola misteriosa, poi tu ci svelerai. E quindi in questo documentario in maniera particolare tu sviluppi diversi titoli. Partiamo dal primo titolo e poi, come dicevo, te li lancio e poi tu li svilupperai come vuoi. Ermanno, una personata molto cara, Amnistia, Rimozione, Norimberga, Ubuntu, TRC, poi vedremo che cosa significa, Va Pensiero a Bolzano, Un prete tedesco, Un uomo e la riconciliazione. Ci aiuti a sbrogliare questa matassa e a far su il gomitolo? Dunque, è una matassa che risale, diciamo, nel film. A vent'anni fa ed è stato il mio primo documentario. Tra parentesi, fatto con l'aiuto di una fondazione svizzera dei diritti politici, l'UNESCO di Parigi, la Rai 3, le Fin di sì, che è una delle migliori produzioni nel mondo, è stata una partenza e sono andata in Sudafrica a vedere come un paese cercava di riconciliarsi. Stiamo parlando della Sudafrica dopo l'Apartheid. Dopo l'Apartheid. Quindi io sono andata nel 2000 e c'era già in atto questo processo di riconciliazione. Quello che si è fatto in Sudamerica a muri chiusi, gli africani hanno deciso di farlo in the African way, cioè con storytelling e quindi con telecamere, radio, eccetera. Questo è stato voluto fortemente da Mandela e da Desmond Tutu, il grande Desmond Tutu che io ho incontrato, che è nel mio film. Il mio film si chiama Ubuntu, notte sul perdono, Notes on Forgiveness, ed è stato in tantissimi festival e tuttora, come vedi, anche tu mi chiedi di parlare. Continua a far parlare di sé. Per cui c'è un'attualità che è veramente straordinaria. E quindi, a parte l'incontro con Desmond Tutu, meraviglioso, un uomo straordinario, ma il fatto è questo. Io avevo una storia personale da portare. E da quella sono stata guidata come, dico, l'ho detto io a Tutu, come Oreste, come dell'erostia della terza generazione, no? Cliternestra, Elettra, Oreste, che tenta di richiudere il cerchio. E io ero Oreste. Te la portavi dentro questa storia? Sì, cioè, è una cosa che mi incuriosiva, perché io mi incuriosiva intellettualmente, emotivamente, relativamente, perché io non ho mai conosciuto mio nonno. Tuo nonno è Ermanno. Ermanno Bartellini, appunto, che è stato il fondatore con l'Elio Basso del PSIUP, Partito Socialista di Unità Proletaria, un grandissimo antifascista per vent'anni, amico di Gobetti, un filosofo economista. Lui era amministratore della Motta, però lui era un grande intellettuale, no? E infatti, se non fosse morto, lui è morto da Cao, se non fosse morto da Cao sarebbe diventato ministro. Eh, ma ci stai facendo, spoilerando parte della storia. Spoilerando, perché adesso si usa questa cosa di spoilerando, però bisogna ammetterlo, perché così tiriamo l'attenzione. Sì, c'è stata una morte dolorosa nella mia famiglia, trasmessa giustamente alla terza generazione. Effettivamente per me è stato un viaggio incredibile, cioè io mi sono sentita poi molto vicina a lui, proprio spiritualmente, io sono una persona molto spirituale, l'ho sentito vicino. E quindi io sono andata in Sudafrica e anzi ho scritto tramite la fondazione a Desmond Tutto dicendo io sono una nipote di Ermano Bertellini che è morto a Dachau e che è scappato da Dachau, cosa incredibile, ed è stato ripreso. Prima però è stato aiutato da un prete che però a un certo punto ha tentennato. Quanti erano? Erano quattro credo nella fuga. Sono scappati? Dal campo di Muldorf che era fuori Dachau, dove loro trascinavano cemento. Quindi il nonno, dopo vent'anni di antifascismo, oltretutto lui era stato anche in prigione, al confine, a Lipari con i fratelli Rosselli, con Parri, cioè... Ermano scappa da Dachau. Sì, lui decide, dice, io qui muoio, se non Borghenzo è una fuga, io muoio, dopo vent'anni che mi... no. Quindi scappa, però lui aveva delle scarpe e parlava molto bene tedesco, dice uno dei sopravvissuti, l'unico sopravvissuto. E quindi arrivano nella notte, è scritto nel film, denutriti, eccetera, a questo sacerdote che li aiuta sacrificicamente per una notte, cioè gli lava i piedi, è proprio un gesto cristico, però la mattina viene colto da panico e gli dice di andare, loro vanno... A paura della rappresaglia, vero se non ricorda? Eh sì, lui era terrorizzato per sé e per il suo villaggio, vicino a Rosenheim, che è vicino a Monaco, Dachau è vicino a Monaco. E questi arrivano e vengono ripresi e qui c'è tutta la descrizione terribile, dico, però molto interessante questa descrizione dell'unico sopravvissuto. Un ingegnere milanese, che poi è diventato molto amico della nostra famiglia, ed è stata un'intervista molto sofferta, perché sono stata con lui ore in cui lui ha riesumato e come sempre succede a queste persone, la memoria si confonde e diventa emotiva e si mettono a piangere dopo anni e anni e anni. Sì, ho visto, ho visto. È stato di una... cioè per lui è stato... io mi adorava, perché lui adorava mio nonno, cioè gli aveva creduto, però lui dall'inizio dice, io ero giovane, mi rendevo conto che Erbano voleva andare, ma io mi rendevo conto che non ce l'avremmo mai fatta. Però io capisco anche perché il nonno è voluto scappare, cioè dopo vent'anni che lotti non vuoi morire, lasciarti ammazzare. Quindi partono dal campo di concentramento, arrivano, sono accolti da questo prete che poi invece si sente costretto, immagino con un travaglio interiore importante, a consegnarli di nuovo i tedeschi, ai nazisti, viene riportato in campo di concentramento e lì muore. E lì, nella tradizione familiare, passa questo peso. Passa, sì, ma il fatto è che questo Picaluga, questo ingegnere Picaluga, che era molto giovane, si è salvato, era magrissimo, eccetera, però dopo la guerra ha fatto una... non è morto di tifo, non è morto di sevizia, è morto di tifo come quasi tutti a Dachau, perché era sovrappopolato nel 45, proprio pochi giorni prima della liberazione del campo. E quindi questo Gennere Picaluga ha fatto testimonianza alla Fondazione Basso di questo fuga da Dachau nei quaderni. E poi questo prete, e questa è la cosa, si è pagato il viaggio per venire a Milano subito dopo la guerra a chiedere perdono. Quindi l'idea del perdono è partita da lui. Il prete dunque, travagliato per questa sua azione, che aveva anche la sua logicità, perché vista dai nostri giorni sembra una cosa quasi criminale, però lui doveva proteggere anche il villaggio, è ricolmo di questo senso di costernazione e vuole riparare, chiedendo perdono. Sì, e infatti mio padre, che è c'è nel film, dice, io avevamo reagito un po' duramente noi, perché insomma, poi dopo a ripensarsi quegli anni, ovviamente perché lui ne parla come era lui quando era giovane, giovane, ma poi dopo, dopo 30-40 anni, uno matura e ha elaborato, diceva, insomma mi rendo conto. Però, giustamente, aggiunge mio padre, c'erano anche degli eroi tra i preti, basta vedere il film di Rossellini, Roma Città Aperta, quel personaggio meraviglioso di Alto Fabrizi, no? Un eroe pazzesco. E tu sei partita con tutta questa storia? Sei partita per il Sudafrica? Sono partita per il Sudafrica. Che cosa sono questi tribunali? Perché, appunto, e io volevo vedere, passare dal discorso, come si diceva una volta, al personale politico, cioè vedere come la stanza del perdono mia personale fosse invece vissuta da una nazione, perché questi tribunali, che hanno uno stampo anche protestante, cosa molto diversa da altre cose che sono state in altri paesi, perché c'è questo stampo protestante in Sudafrica, sono tribunali dove si rendeva, poteva andare una persona che era stata vittima, però ci doveva essere la condizione che fossero circostanze politiche, vittima di maltrattamenti, di uccisioni, di parenti, e la persona che aveva compiuto di offenders, che aveva compiuto questo atto, il perpetrator, si recava e c'è anche questo tribunale dove c'è una forma di scuse, però non scuse, scuse dopo che c'era stata una missione di colpa, c'è una confessione, esatto, c'è questo aspetto, però c'era anche un aspetto, c'è un bravissimo ministro, Cadena Smal, nel film che lo dice, c'è anche un aspetto laico del tribunale dove non necessariamente quello, è una forma di riconoscimento reciproco, no? E a me quello che interessava di più era, infatti ho collaborato con una psicologa di quello che si chiamava Trauma Center, che poi è diventata una grande amica, che mi ha dato l'occasione di conoscere quattro vittime diverse di questo problema, che si recavano al Trauma Center e dicevano io ho questa rabbia dentro, perché il mio problema era capire che cos'era la ragione per cui si vuole il perdono, che cosa vuol dire. In realtà alla fine, io a parte che nei miei film io non do mai le risposte, pongo delle domande, però alla fine rimane come discorso, perché? Perché dobbiamo lasciare andare la rabbia, perché mi sento meglio, questo alla fine è il discorso. Stiamo parlando di saluta, anche questo oriente. Assolutamente, saluta dell'anima, saluta del corpo e le quattro persone sono molto diverse nel film, perché ci sono chi è una donna che vive in una township, il cui il fratello era delle NC militante, è stato ammazzato e lei è stata perseguitata, quindi cosa, cioè nero, della stessa regione dove è nato Mandela, però vive a Guguleto, che è una township fuori Cape Town. Poi c'era un giovane Colored, cioè i Colored sono gli indiani ministri Aleri, e poi c'era un bianco che invece aveva tutto un altro discorso di lotte, di bombe nella sua chiesa, un pastore interessantissimo. che è morta sua moglie, inchiodata lì. Oh, la cosa è incredibile. I realized that there was a Christian witness that had to be carried out here, and because I was a leader elder at the time, and because my wife had been killed, I sought out the TV cameras and made a statement to the effect that as a Christian I held out forgiveness. It needs to be a little bit explained, but in holding out forgiveness, like God doesn't forgive without something. He requires repentance for God to forgive. In the same way we as Christians have to emulate God. So I held out forgiveness to these men, told them that over the cameras that if they repented they too could get forgiveness. Cioè, voglio dire, diverse, diverse storie, no? E soprattutto c'è anche la testimonianza che mi ha molto coltupito, di questo Gu, di due fratelli, si erano fratelli Gu, ma due teologi, di cui uno è stato seviziato da Cozzi, il famoso mostro, e lui dice che proprio al momento in cui soffriva di più la tortura, lui, e lui è diventato un healer, diventato, per cui a un certo punto, ridendo, dice grazie a Cozzi, cioè io ho capito la spiritualità di una cosa incredibile, cioè... E' veramente incredibile. Incredibile, io trovo che questo è un aspetto... E i due fratelli discutono insieme, e a un certo punto parlano di una cosa a cui tengo molto, cioè che l'Ubuntu... Soffermiamoci su questo tema, perché mi ha coinvolto spiritualmente in maniera molto intensa qualche anno fa, quando mi sono appunto raffrontato con questo tema, perché pare che da questo principio Ubuntu in Africa abbiano un concetto di giustizia molto differente rispetto a noi europei. Infatti, noi europei, nel momento di grande, insomma, giudizio, abbiamo creato, insensurato, abbiamo creato Norimberga, abbiamo creato Norimberga, loro invece hanno creato i tribunali di giustizia e verità. Sì, anche che sono stati portati anche in Ruanda, anche in Ruanda, quindi che cos'è questo Ubuntu? Che cosa hai capito tu Francesca? Ma io ho capito perché me l'ha spiegato addirittura Desmond Tutu in cosa, me l'ha proprio detto nella sua lingua e poi mi ha tradotto. Lui dice, io non esisto se non ci sei tu, quindi la mia identità, proprio questo mi ha spiegato, è definita dall'altro, la famosa questione, siamo animali sociali, no? Però questo vuol dire che cosa? Che io l'essere umano non potrebbe camminare, non potrebbe parlare se non lo imparasse dall'altro, ma nello stesso tempo potrebbe neanche aiutare l'altro, perché tutta l'umanità, l'essenza dell'umano è l'aiuto reciproco e quindi la generosità. Quindi è il contrario del nostro cartesiano io sono da solo e penso. Quindi c'è qualche cosa invece che dall'Africa ci arriva, e io già allora dicevo, un insegnamento spirituale. Se capisco bene, tu sei stata molto chiara, ma io cerco di rielaborare, il principio Ubuntu parte dal presupposto che io non ci sono se l'altro non c'è, quindi se io faccio partire la mia vendetta e cancello l'altro, in qualche maniera cancellando l'altro cancello anche una parte di me stesso. Assolutamente. Quindi ho necessità di avere una salute relazionale e quindi il perdono e la riconciliazione che non è qualche cosa... Non è individuale, non è più individuale, è collettiva e addirittura uno di questi due teologi di colore dice... Cioè tutti questi fiumi di sangue scorsi in Europa, scorsi in Africa, scorsi... Cioè non è che dice ah io perdono te è finita e gli altri dice i parenti, poi poi gli africani guai, i parenti, i cugini, i relativi, quello che è successo in Argentina è stata la stessa cosa, ma come è stato in Italia dopo il fascismo cos'è il nazismo è finita non si può e quindi tutto il mio film è un'interrogazione con il mio caro amico Maramao, io continuamente nel film torno indietro e dice e l'Europa, cosa è successo all'Europa, i popoli europei si sono, infatti i popoli europei non hanno risolto niente perché dalla banalità in cui tutti dicono ah mi stanno antipatici, cioè i francesi, l'altro mi stanno... già questi discorsi vabbè, ma voglio dire in realtà i popoli europei se non trovano un'unità vera, non un'unità delle banche, non riusciranno, ma perché non riescono? Perché ci sono secoli e secoli di massacri, cioè voglio dire a livello spirituale queste cose contano molto di più di quello che la società materialistica ci induca a pensare, infatti, anzi alla società materialistica fa comodo che non siano risolti questi problemi. Sì, è vero che il suolo dell'Africa è contaminato dal sangue e tanto più l'Europa con le guerre di religione, tra cristiani addirittura. E addirittura la cosa interessante è che Maramao a un certo punto del film che si svolge tre quarti di Sudafrica e poi in Italia dove io torno ai luoghi d'origine di mio nonno, proprio perché io ho questo rapporto con la natura molto forte nei miei film, quindi faccio sempre vedere la natura, torno alla natura, eccetera, e io sono tornata proprio in questa natura e Maramao fa notare come in realtà ci sia una critica storica che dice in qualche maniera che la seconda guerra mondiale, anche la prima ma soprattutto la seconda, sia in qualche maniera paragonabile per certi versi alle guerre di civili di religione, cioè che hanno insanguinato l'Europa nel 600, cioè ci sia un parallelismo, non si trattava solo di questioni economiche, si trattava, oppure si potrebbe anche dire si trattava di potentati che hanno sommerso di soldi le varie parti utilizzando questa mancanza di chiarezza spirituale di masse di gente, perché si può manipolare la gente con i soldi, però la gente pensa, è una cosa proprio comune ormai di dire, si può manipolare con i soldi, no, momento, se una persona ha una grande consapevolezza psicologico-spirituale non la si manipola, non è vero, certo se la persona non ce l'ha, come erano queste masse di diseredati europei da secoli di invasioni, di disastri, è chiaro che li manipoli, ma non è vero che si manipola, dipende, è questo che bisogna sempre considerare, bene come la scintilla divina che ognuno ha dentro di sé. Con questa nota positiva possiamo concludere la nostra, la tua narrazione, di questo tuo percorso spirituale, di tuo percorso di persona che sicuramente ha formato quella che è la Francesca di oggi, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.